Destagionalizzare insistendo sul turismo declinato al plurale con offerte differenziate. E' questa la linea di indirizzo da seguire secondo il Presidente della Regione Gian Mario Spacca che questa mattina ha presentato i nuovi collegamenti charter dall'aeroporto delle Marche per Oslo, Stoccolma ed Helsinki che saranno operati dalla compagnia aerea lituana Small Planet. L'occasione si evita anche per fare il primo bilancio sulla stagione turistica ancora in corso. Direi che è andata in termini di resistenza bene, siamo riusciti a compensare una situazione che era molto complicata a causa delle condizioni meteorologiche e anche dei drammi che sono accaduti soprattutto a Senigallia. C'è stata una caduta degli arrivi del 3% nel mese di giugno che si è rinnovata anche nel mese di luglio ma agosto è stato sostanzialmente un mese in equilibrio in cui abbiamo mantenuto gli arrivi dell'anno precedente e speriamo che settembre possa migliorare la situazione. Naturalmente questo dato generale poi si declina diversamente sui diversi turismi nel senso che il turismo balneare, soprattutto quello degli operatori balneari è stato molto penalizzato dalle condizioni meteorologiche mentre se ne è avvantaggiato il turismo di ristorazione, il turismo gastronomico, il turismo culturale e soprattutto quello dell'entroterra. Questo ci porta a quel dato complessivo che prima dicevo. Ora il problema è destagionalizzare, allungare la stagione turistica e siamo impegnati in questo senso, anche l'operazione che è stata presentata questa mattina va in tale direzione. Abbiamo chiuso questo accordo con un tour operator per avere 30.000 arrivi dalla Scandinavia, Norvegia, Svezia e Finlandia. Sono molti voli che arriveranno quotidianamente sull'aeroporto di Ancona, Falconara, aeroporto delle Marche e ci consentiranno di avere un flusso significativo da una parte che si sta sempre più interessando nella nostra regione, un flusso di turismo che viene al nord Europa e che diventa sempre più importante per noi. Saranno numerosi i voli che atterreranno all'aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona. Lo scalo marchigiano è infatti una piattaforma logistica determinante sia per le attività imprenditoriali sia per il turismo. Il primo volo atterrerà ad Ancona l'8 settembre alle 14.10 proveniente da Oslo. I voli saranno 38 mi pare nel mese di settembre e 54 nel mese di ottobre e 13 novembre. complessivamente saranno 30.000 presenze che si distribuiranno peraltro nel territorio della regione pur facendo riferimento agli alberghi di Pesaro e Gabicce. Ci saranno iniziative che si svolgeranno ad Ancona, a Urbino, ad Ascoli, a San Benedetto, a Macerata, quindi ci sarà possibilità di far conoscere il museo diffuso delle Marche.